Puntuale alle 9.30 il ministro della salute Orazio Schillacce è arrivato all'Aquila per la visita in ospedale che è stata la prima tappa della sua mattinata, un incontro con i medici dell'ospedale alla presenza del manager dell'Asla Romano, del presidente della regione Marsilio e del senatore Liris, poi una visita al pronto soccorso del nosocome Aquilano. Per il ministro l'Abruzzo rappresenta un modello, lui ha già lavorato al San Salvatore prima come ricercatore a medicina nucleare e poi tra il 99 e il 2001. Prima ha visitato l'ospedale, come ha trovato l'ospedale dell'Aquila? Il manager le ha fatto un po' un resoconto delle cose fatte? Sì, ho visto le tante iniziative che sono state prese nell'ultimo periodo, poi devo dire che ho sempre collaborato in questo anno e quattro mesi di governo con il governatore Marsilio e credo che insomma la sanità abruzzese oggi sia decisamente di alto livello con tante iniziative importanti alle quali guardiamo con interesse anche per poterle magari poi riproporre su un piano più nazionale. Sì, io credo che le liste d'attesa sono il problema più fastidioso, lasciatemi usare questo termine per i cittadini, è un impegno che abbiamo preso, stiamo lavorando ovviamente con le regioni, con i presidenti delle regioni, con gli assessori regionali, io credo che le risposte vanno date, speriamo di poter abbattere entro l'anno il tetto di spesa che significa poter assumere più personale ma io credo che poi bisogna fare anche una razionalizzazione di quella che è l'offerta. Il pronto soccorso abbiamo già dato l'anno scorso degli incentivi ai medici che erano presenti nel decreto bollette, guardiamo con attenzione all'evolversi della situazione, abbiamo una crisi vocazionale che non è solo italiana ma di tutti i paesi europei e anche dei paesi come gli Stati Uniti quindi io credo che bisogna trovare il modo di far sì che i giovani scelgano nuovamente la specializzazione del pronto soccorso. Il manager romano ha mostrato i risultati della ASDA negli ultimi due anni però la questione che oggi tiene banco, peraltro chi conduce la battaglia sul nucleo di cure primaria, ha incontrato il ministro a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico, è quella appunto sui nuclei. Lui però come l'ha stato ieri nel consiglio comunale è stato perentorio anche oggi, non andrà contro legge e sul pronto soccorso che ha sofferto molto come gli altri in Italia è in corso una profonda riorganizzazione, ha detto mai più gente nei corridoi. All'Aquila ha molti più medici, gli altri ha 94 medici, gli altri hanno numeri molto inferiori sia in valori assoluti che in valori percentuali, noi siamo con un valore del 45% rispetto a tutti i medici famiglia dell'AS, mentre gli altri a Pescara scende al 30%, Teramo 29% e chiede addirittura il 17%, quindi è chiaro che le altre AS hanno ancora molta strada da fare per poter raggiungere i nostri livelli. Oggi i pazienti hanno uno spazio dedicato di grande comfort con servizi igienici in cui finalmente ritrovano quella giusta serenità che non hanno perché sono al pronto soccorso ma che compensa un pochino il disagio di essere al pronto soccorso. Dal punto di vista alberghiero hanno un comfort eccezionale. Grazie.